Il bambino di Banschi è la fonte di ispirazione, anche se al contrario. Una raccolta fondi da destinare alla Fondazione Pascale per la ricerca sul cancro è invece lo scopo di un'iniziativa frutto di una collaborazione tra due professionisti napoletani. Gianluca Biondi, Giuseppe Albino con l'artista Tonia Erbino hanno promosso un'iniziativa solidale realizzando e mettendo in vendita un quadro e il ricavato. Andrà alla Fondazione Pascale, come detto, e all'associazione Carmine Gallo che assiste i bambini ricoverati nel reparto di oncologia del Santo Bono Pausillipon di Napoli. L'iniziativa sfiora la provocazione, un modo per ricordare all'opinione pubblica che la salute non è solo questione di Covid. Nell'ultimo anno e mezzo non si è parlato più di cancro, non si è parlato più di tumore, ma si è parlato solo di Covid. Ho pensato di far fare 100 multipli certificati e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Pascale e all'associazione Carmine Gallo, perché purtroppo l'anno scorso sono morte 188 mila persone di cancro, molte di più di quante siamo morte di Covid. Poi c'è una problematica a livello mondiale che muove business in una direzione piuttosto che in un'altra. Qualcuno poi ci dovrà spiegare perché per il cancro non si riesce a trovare una cura, mentre per il Covid ci sono voluti otto mesi. Per il cancro non si riesce a trovare una cura,